Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, quest'oggi andrò a spiegare per i più principianti come eseguire un lancio correttamente, quali sono le procedure e come migliorare la distanza di lancio e la tecnica di lancio soprattutto. Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condiviate il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mi raccomando, mandate questo video ai vostri amici meno esperti. Infine superiamo i 100 like per questo video e dunque direi via con il video. Grazie a tutti. Allora ragazzi faccio questo video perché ultimamente mi è capitato di vedere molti ragazzi alle prime armi trovarsi in difficoltà con il lancio, ovvero sbagnavano le tempistiche, l'approccio di lancio, la tecnica, proprio i movimenti. E dunque oggi vado a spiegarvi partiamo con il lancio più semplice che bene o male diciamo tutti conoscono ovvero il lancio dall'alto, quello più semplice, quello che in genere si cerca per fare lunghe distanze però non è il più efficace diciamo c'è qualche altra piccola variante. Per eseguire bene questo lancio ci devono essere delle caratteristiche ovvero distanza dalla punta all'artificiale corretta, ovvero né troppo lunga né troppo corta, una corretta impugnatura della canna, il rilascio del filo al momento giusto e il movimento corretto del braccio. Mettendo insieme tutti questi elementi riusciremo a fare il nostro lancio in maniera corretta. Da cosa si parte? Dall'impugnatura della canna. Io ho il manico, mulinello, la canna va presa in questa maniera qua con il dito medio sopra l'impugnatura del mulinello, l'indice e il pollice di lato. In questa maniera qua. In questa maniera si può aprire l'archetto, posizionare il filo sull'indice. In genere si va a posizionare il filo sulla falangetta perché c'è un po' più di resistenza. Dunque, il movimento da fare è canna in mano, archetto aperto, portiamo indietro, l'altra mano va sull'impugnatura posteriore. Siamo in questa posizione, esca preferibilmente dritta, cioè nel senso a 90 gradi rispetto alla punta della canna. Dopo si possono fare dei giochetti per aumentare ancora di più l'accelerazione dell'esca e farla andare più lontano. Ma intanto partiamo con quello base. Seconda mano sull'impugnatura posteriore e quando arriviamo più o meno in battuta bisogna mollare l'esca. Dopo il fatto dell'inclinazione della canna ovviamente c'è un punto ideale che ti permette di raggiungere maggiori distanze. Se si rilascia quando la canna è ancora inclinata troppo verso l'altro il tiro farà una parabola e andrà solo in aria e quindi farà una caduta dritta. Però non è del tutto sbagliato diciamo perché in alcune situazioni quel tiro può servire. Diciamo che normalmente per un principiante non serve. È un tiro che serve più che altro a fare entrare l'esca più velocemente in acqua facendo meno rumore perché l'esca cade dritta e quindi ha meno superficie di contatto e fa meno rumore. È un tiro più silenzioso però bisogna saperlo fare. Però intanto quello che ci serve sapere è questo che quando la canna arriva a battere sul braccio è il momento per mollare e ci porta ad avere meno male la miglior spinta possibile per questo tipo di lancio. Invece ovviamente se l'anguratura sarà troppo bassa ovviamente l'esca andrà a fare un lancio corto. Parliamo un attimo della distanza dell'esca rispetto alla punta. Allora c'è da interpretare in questo caso perché ovviamente con canne più corte aumenterà la distanza sarà minore. Teniamo conto che su una canna da 2 metri circa la distanza ideale sono tra i 30 e i 40 centimetri massimo per fare un lancio più comodo possibile. Se invece parliamo di 1,80 metri stiamo tra i 15 e i 25 centimetri più o meno. Detto questo è molto importante anche la posizione in cui siamo noi. Infatti dobbiamo avere la gamba predominante ovvero dove andrà tutto il peso. In avanti invece l'altra dietro. Questo perché se vogliamo aggiungere ancora più forza al nostro lancio possiamo inizialmente nella fase di carico appoggiarci sulla gamba posteriore. Per dopo durante la fase di lancio passare sulla gamba anteriore per dare ancora più slancio alla nostra esca e quindi farla andare più lontano. Adesso vi spiego un attimo cosa succede durante la fase di lancio alla nostra canna. Prendete questa come la nostra canna. Fase di carico portiamo la canna indietro. Ok. Inizio del lancio la canna inizia a piegarsi. Poi dipende dall'azione della canna. Canna è più rigida, canna è meno rigida. Piegheranno di più o di meno. La canna inizierà a piegarsi. Adesso faccio vedere un po' accentuato. Inizierà a portare l'esca in avanti. Lo spazio è poco ragazzi. La canna porterà l'esca avanti e l'esca avanti. In questo punto qua ci troviamo con la canna praticamente dritta. E l'esca in avanti. E quello praticamente è il momento in cui bisogna mollare il filo. Perché l'esca ha raggiunto la velocità massima possibile. E quindi è il momento in cui ha la gittata maggiore. Adesso vi vado a spiegare un altro lancio simile. Però leggermente più evoluto. Parliamo sempre di un lancio dall'alto. Quindi con la canna che passa sopra la testa. Comunque tenete conto che per un rilascio corretto. Il movimento deve essere più o meno questo. Quindi più o meno la nostra mano sarà all'altezza della nostra testa. Parliamo dunque della seconda tecnica di lancio. La seconda tecnica di lancio è molto simile. Aumenta sicuramente le distanze di lancio. Perché abbiamo una forza centrifuga maggiore. L'esca raggiunge una maggior accelerazione durante il lancio. La canna carica molto di più. E ci permette lanci molto più lunghi. Anche perché sulle esche soprattutto che hanno i pesi interni. I pesi si spostano tutti sulla parte posteriore. E permette all'esca di viaggiare meglio durante il lancio. Perché hai tutti i pesi nella parte posteriore. L'esca quindi sta bella dritta in fase di lancio. Quando arriviamo nel punto di 90 gradi. C'ha tutti i pesetti sotto. Nella parte inferiore. Quindi la maggior parte del peso è concentrata nella parte terminale. Farà questo movimento qua. E quando uscirà sarà con la coda diciamo verso l'acqua. Che aumenta l'agitata perché ovviamente è la parte più stretta, più piccola. E quindi ha meno resistenza col vento. Sarà molto più stabile nel lancio. Invece di roteare, fare movimenti strani. Andrà bella dritta e cadrà perfettamente in acqua. Questo lancio si svolge così. Si parte da più o meno una canna dritta. Già con l'impugnatura come prima. Si porta velocemente indietro. E si lancia normalmente diciamo. Però questo comporta una piega maggiore della canna durante la fase di lancio. E una velocità maggiore dell'esca. La piega maggiore, quindi la maggiore potenza data dalla piega della canna. Più la velocità maggiore dell'esca. Porta a un lancio molto più lungo. Il lancio in velocità, va bene, sarebbe fatto così. Lancio molto veloce. L'esca prende più velocità possibile. E questo tipo di lancio soprattutto va bene con le esche leggere. Che sia la canna fast che sia la canna un pochino più morbida. Permette dei lanci veramente lunghi. Ed è quello che faccio io di solito. Faccio rivedere. Canna, basso. Adesso dunque vi faccio vedere bene l'azione. La nostra canna si troverà più o meno in posizione orizzontale. Partiamo con il lancio. La canna inizia a piegarsi. Inizia a flettersi. Porta con sé la nostra esca. Quindi l'esca inizierà a ruotare. A prendere velocità. La canna dunque si piega, si piega, si piega. Arriva nella posizione centrale che cambia dall'altro lato la piega. Carica tanto. In questo momento sta caricando tanto. Noi la riportiamo avanti. Deve essere un movimento molto veloce. E la canna scarica tutto il potenziale che aveva sull'esca. E la fa viaggiare molto più lontano. Dunque ragazzi per questo video è tutto. Spero che vi sia stato molto utile. Sfortunatamente non ho potuto fare video in esterna. Uno perché non si può uscire, non si può andare a pescare. Due perché piove. Quindi abbiamo anche l'aggravante. Non potevo farlo neanche in giardino. Diciamo anche se penso che avrei sfondato più di qualche finestra di vicini. Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando passate anche dai social qua sotto in descrizione. Lasciatemi un commentino. E dunque direi che per questo video è tutto. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie.